Upas, trame all'8.12, Ferri e Marina ostacolano Ida e Diego, Clara fugge con Federico. Marina e Roberto faranno di tutto per evitare che tra Ida e Diego si sviluppi una storia d'amore nella puntata Un posto al sole, che andrà in onda da lunedì 4 a venerdì 8 dicembre e sparerà a Ida e Diego. Intanto Alberto Paiadini si arrabbierà perché Clara è scappata con il piccolo Federico. Intanto Giulia invita Rosa a partecipare alla manifestazione contro la Camorra. Nunzio prova a consigliare Samuel nella puntata di lunedì 4 dicembre, Clara era decisa a scappare con Eduardo, sapendo già che Alberto avrebbe reagito male. Nel frattempo, Ferri e Marina rimarranno scioccati nell'apprendere che esiste la possibilità di una storia d'amore tra Ida e Diego. Inoltre, Nunzio e Samuel parteciperanno ad una gara di cucina. Diego spera che questo non causi problemi al Caffè Vulcano. Nella puntata di martedì 5 dicembre Clara finisce per scappare con Federico e Alberto non può che arrabbiarsi con lei. Tuttavia, il giovane Curcio si rende presto conto di aver fatto il passo sbagliato. Nel frattempo Ida si accontenterà dell'offerta di Diego. Roberto Ferri, quindi, farà di tutto per separare i due. Nunzio ascolta il dialogo tra Espedito e Samuele e cerca di dare all'amico il miglior consiglio possibile. Eugenio si rammarica di aver rotto con Viola e propone a Lucia. Secondo un'anticipazione per mercoledì 6 dicembre, la coppia Ferri elaborerà un piano per separare Ida e Diego. E chiederà alla donna di andarsene, soprattutto in vista delle vacanze di Natale. Intanto Giulia invita Rosa a partecipare alla manifestazione contro la Camorra. Inoltre, Clara sembra provare sempre più rimorso dopo la sua fuga. Intanto, grazie a Irene e Lolo, Mariela e Serena scoprono di avere molto in comune. Nella puntata di giovedì 7 dicembre Paiadini teme la mancanza del figlio Federico, così Nico cerca di calmarlo, ma questo non basta a calmare la sua rabbia. Nel frattempo Marina e Roberto devono confrontarsi con Lara mentre pensano a Diego e a Ida. Eugenio sarà rattristato da come sono andate le cose con Viola e farà un'offerta alla collega Lucia. È tempo che Raffaele prepari il presepe tratto spoiler di venerdì 8 dicembre, arriva il giorno della manifestazione di Giulia e Don Raimundo contro la Camorra e tutto si svolge in un clima piuttosto teso. Nel frattempo Alberto è preoccupato per la mancanza di notizie su Federico e finisce in un violento conflitto con il giudice Nicotera. Alla fine arriva per Raffaele il momento di costruire il presepe. E crederà che qualcuno lo aiuterà a prepararsi.